Non è un bel segnale quello che emerge dagli ultimi dati Will sul lavoro. Se è vero che è diminuito il ricorso alla cassa integrazione ordinaria, è aumentato in modo spropositato del 175% l'utilizzo della cassa integrazione straordinaria a significare lo stato di sofferenza delle aziende. C'è un raddoppio dell'utilizzo della cassa integrazione straordinaria. C'è una leggera diminuzione dell'utilizzo dell'ordinaria, però quello che ci preoccupa maggiormente è che quando le aziende ricorrono alla straordinaria vuol dire che siamo vicini o a una riduzione drastica del personale o addirittura a una cessazione di quell'attività. Per cui credo indispensabile su questo che pure con un intervento che è anche da considerare sufficiente quello del governo, sia insufficiente in questo preciso momento storico, perché la disoccupazione si combatte aiutando le imprese e diminuendo i costi del lavoro. Come si fa? Diminuendo le retribuzioni? No, si aiutano le imprese diminuendo i costi del lavoro a carico delle imprese che ora arrivano ad essere il 75% sulla base della previdenza e sulla base del fisco. Credo che su questo le imprese di Verona abbiano anche una certa creatività e anche legame col territorio, con i propri dipendenti. È assolutamente necessario investire sulle imprese e sui lavoratori, defiscalizzando i salari. Su questo credo che i giovani e comunque non solo i giovani potrebbero avere una boccata di ossigeno e trovare un posto di lavoro. Al 15 luglio 2012 sono state 1.271 le persone che si sono recate al sindacato per problemi di disoccupazione, aumentate a 1.663 al 15 luglio di quest'anno. L'anno scorso, nel primo semestre, abbiamo fatto 1.200 domande di disoccupazione, quindi vuol dire 1.200 persone che sono rivolte nei nostri sportelli, hanno fatto domanda di un assegno di reddito minimo. Quest'anno, nel primo semestre, sono aumentati di oltre 400. Questa è la prova dello stato di crisi. E credo che su questo, insomma, siccome lo diciamo un po' tutti, il rimedio deve essere trovato velocemente, per non lasciare giovani e famiglie senza un minimo di speranza. Penso che su questo, insomma, deve anche giocare un ruolo importante l'istituzione e anche il sindacato. Grazie a tutti.